amici del lago big fish ma soprattutto amiche del lago big fish buongiorno a tutti siamo qui in sponda ovest questa mattina in compagnia dell'amico adam e di valeria allora adam primo bus della giornata non è tanto grande però insomma sei qua da cinque minuti direi che permette bene 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 stai pescando con un vermino perfetto c'è un gran movimento a gala questa mattina sono belli attivi il freschino gli ha fatto sicuramente bene stamattina c'erano di 16 gradi quando sono arrivato quindi molto molto bene ci stiamo avvicinando all'autunno finalmente non posso più di caldo basta basta bene ragazzi qui dal big 2 tutto dalla sponda ovest è tutto noi vi salutiamo e vi aspettiamo tutti i giorni qui al big 2 per delle pescate esclusivamente a spinning e mosca no kill veramente spaventoso guardate che bassettone che c'è sotto guarda c'è il riflesso non si vede guarda 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 come bollano bene ragazzi è già un bombardamento